grumotti presenta le news eco green un viaggio nel mondo della sostenibilità ciao amici green siamo nella foresta san benedetto 6.000 alberi piantati cinque anni fa anche con il nostro impegno anche questo è un esempio della nostra filosofia green certo ogni albero contribuisce a produrre ossigeno ed assorbire co2 noi in san benedetto dedichiamo grande attenzione all'ambiente all'aria che respiriamo e all'acqua che beviamo san benedetto eco green proteggi la natura con noi